Musica Due giovani neguai dopo una battuta di pesca subacqua illegale all'interno dell'area marina di Capocaccia, Isola Piana, divulgato sui social il filmato della loro bravata. Ieri sera aveva l'urgente dell'aeronautica per trasportare un bimbo di appena due settimane al gaslini di Genova, sempre per la cronaca tragica morte di una diciassettenne caduta da cavallo. Il grande crossfit internazionale ad Alghero, questa mattina la presentazione del World War 4 Mori, appuntamento a Maria Pia dal 2 al 4 settembre. Un buon inizio di settimana a tutti voi, bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale che quest'oggi apriamo parlando del video che sta facendo tanto discutere, che da ieri ha unito l'opinione pubblica sotto la stessa reazione. Sdegno la domanda sul come sia possibile commettere e rendere pubblici certi comportamenti. Stiamo parlando dei due giovani che di fatto hanno pescato in area protetta. Dal parco arriva una ferma condanna, commettono un reato penale con una battuta di pesca subacqua illegale all'interno dell'area marina di Capocaccia, Isola Piana. Nei fieri del loro bottino divulgano su tutti i social ammirevole la reazione della comunità algherese che in onda di segnalazioni di uffici dell'area protetta e degli organi di polizia è intervenuti tempestivamente per le conseguenti azioni di denuncia dei trasgressori. Costerà molto cara la bravata dei due giovani che hanno commesso un reato penale con una battuta di pesca subacqua illegale all'interno dell'area marina protetta. Di Capocaccia, Isola Piana, tempestivamente segnalata dagli stessi uffici della MP. Così si legge nella nota ufficiale che è stata diramata dall'ente. Praticare la pesca subacqua all'interno del perimetro di una qualsiasi area marina protetta italiana, prosegue il documento, è sempre una violazione di carattere penale e non semplicemente amministrativo, a prescindere dalla zona nella quale essa venga praticata A, B o C e dal fatto che ci sia o meno effettivamente catturato qualcosa, fanno sapere ancora dagli uffici dell'AMP. E non può essere adotta nessuna giustificazione circa la mancata conoscenza dell'esistenza di una AMP, neppure in assenza di segnalazione. E' quindi sempre necessario accertarsi bene delle eventuali limitazioni presenti sul sito di immersione. Non contenti, i due giovani hanno postato su tutti i social il filmato della loro bravata con dovizia di particolare, già al vaglio dei competenti uffici della magistratura, della Capitaneria di Porto e degli organi di polizia. Altrettanto grave, come documenta lo stesso filmato, è stata l'operazione di vendita del bottino ad un noto ristorante di Alghero del tutto incurante del rispetto della normativa volta ad attestare la tracciabilità del prodotto, si legge ancora. Ammirevole comunque è stata la reazione della comunità algherese che è inondato di segnalazioni gli uffici dell'AMP e degli organi di polizia, intervenuti tempestivamente per le conseguenti azioni di denuncia dei trasgressori. E' un segnale di grande importanza che misura una sensibilità in continua crescita nel nostro territorio sui temi dell'ambiente e del rispetto di specie e habitat, sottolinea il presidente del Parco e dell'AMP, Raimondo Tilocca. Una consapevolezza fondamentale per contribuire a prevenire e riprimere questi comportamenti illeciti. Dagli uffici del Parco e dell'AMP fanno sapere inoltre che sarà fatta ogni azione di supporto ai competenti uffici di polizia per assicurare che i trasgressori non rimangano impuniti. Quanto successo tuttavia deve fare riflettere sul fatto che non si tratti di episodi isolati, ma di comportamenti ancora molto diffusi che, dalla pesca subacqueo illegale, arrivano a coinvolgere il tessuto produttivo della ristorazione. Serve quindi l'impegno di tutti e la forte consapevolezza della comunità locale valga da monito non solo per i pescatori di frodo, ma anche per i ristoratori che devono vigilare e stare molto attenti a non trasgredire le leggi, a non compromettere la loro immagine nei confronti del consumatore. E sull'episodio interviene anche il presidente della Commissione Ambiente e Area Marina Protetta dell'Isola Piana di Capocaccia, Christian Mulas. Reati del genere vanno condannati e soprattutto non devono essere impuniti per dare un esempio forte a coloro che sono coinvolti, convinti che tutto gli è permesso. Fare lo youtuber, influencer, tiktoker e simili non autorizza a infrangere le leggi a nessuno, scrive Mulas. Pescare in Area Marina Protetta, vendere il pesce illegalmente in un ristorante del luogo, fare la doccia e lavaggio, attrezzature su un marciapiede pubblico, campeggiare abusivamente in un luogo non autorizzato, documentando tutto come fosse una normale situazione giornaliera e credendo che adaliero non esistano le regole. Questo è accaduto ieri da due sciocchi giovani che hanno pensato bene di filmare tutto sulla rete, non curanti della gravità, non di un gesto goliardico, ma di veri e propri reati contro il patrimonio ambientale e soprattutto la mancanza di rispetto verso una città che li sta ospitando. Mulas ha definito il video, che ormai tutti hanno visto, vergognoso. La domanda che sorge spontanea è come è possibile tutto questo? Per ora rimane fatto per chi viene ad Alghero, chi viene a trovare la nostra terra, non può pensare di poterci fare quello che gli pare, per cui questi reati gravi vanno condannati. Un ringraziamento, ha aggiunto Mulas, va tutta la comunità algherese che è intervenuta tempestivamente per denunciare questa situazione e faccio un ringraziamento al giornale online in Alghero Live per aver pubblicato e denunciato questo episodio. Ora, la cronaca si è svolta nella serata di ieri, un trasporto sanitario d'urgenza da Alghero a Genova, effettuato con un velivolo Falcon 900 del 31esimo stormo dell'aeronautica militare di un bimbo di appena due settimane, bisognoso di cure specialistiche urgenti. Il volo d'urgenza richiesto dalla prefettura di Sassari è stato immediatamente disposto e coordinato dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea, la sala operativa dell'aeronautica militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti attraverso i velivoli e gli equipaggi che la Forza Armata tiene in stato di prontezza 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno per questo genere di necessità. Il Falcon 900 del 31esimo stormo, una volta giunto sull'aeroporto militare di Alghero, ha imbarcato il piccolo paziente ed è immediatamente decollato alla volta dell'aeroporto Cristoforo Clombo di Genova. Arrivato sullo scalo Ligure poco prima delle ore 20, il bimbo è stato trasferito in ambulanza presso l'ospedale Gaslini. Il velivolo militare ha fatto poi rientro sull'aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. E' sempre per la cronaca una notizia che ha sconvolto tutta la Sardegna, la morte di una giovane di 17 anni dopo una caduta da cavallo. Martina Berluti, amazzone dell'ASD Endurance del Golfo di Porto Torres, protagonista nei campionati italiani di Endurance, era caduta durante un allenamento ed era stata trasportata al Santissima Annunziata di Sassari in gravissime condizioni. Purtroppo ieri dopo un giorno di agonia è morta. L'incidente è avvenuto sabato a Porto Torres. La ragazza si stava allenando quando l'animale scivolato le è caduta, rimanendo gravemente ferita. Subito soccorsa è stata trasportata in il rissoccorso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove purtroppo ieri è deceduta. Dalle notizie della scomparsa è stato il comitato regionale della Fise Sardegna sulla pagina Facebook ufficiale. Una ragazzina sempre sorridente, solare, in gamba, che aveva iniziato da bambina a collegare i suoi poni. Poi era arrivata sino ai campionati italiani, ricorda il tecnico di Endurance della Fise Sardegna, Anna Teresa Vincentelli. E sempre per la cronaca ci spostiamo a Sassari con una squadra volante della questura che è intervenuta in piazza Tola a seguito della segnalazione di un settantenne che molestava alcune persone presenti in un bar della piazza e compiva degli atti con sfondo sessuale. All'arrivo della volante la piazza era grimita di persone di diverse fasce d'età e alla vista degli agenti l'uomo ha iniziato a rivolgergli frasi volgari e minacciose. Inoltre è tentato di colpire i poliziotti con una stampella e non riuscendovi sferrando calci e pugni. Gli agenti sono stati raggiunti da una ragazza la quale ha riferito che prima del loro arrivo l'uomo gli avrebbe rivolto degli apprezzamenti e successivamente gli avrebbe ripetutamente palpato la coscia e la gamba. Il settantenne è stato quindi arrestato per resistenza pubblico ufficiale, denunciato per i reati di violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico. A seguito dell'udienza di convalida gli è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 21 alle 7 del mattino. Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria a tra poco con la seconda parte. Apriamo la seconda parte dell'ETG con la musica e con il grande successo di Elisa all'Olbia Arena. Sabato sera l'unica tappa sarda del suo Back to the Future Live Tour. L'artista Tristina è salita sul palco vestita di bianco sulle note di Let Me If, facendo cantare e scatenare le migliaia di persone presenti. Che bello rivedervi finalmente, ha detto Elisa. Devo prendere una seconda residenza in Sardegna. Da Shaw's Rollins a Come sei veramente dei brani che l'hanno consacrata come una delle cantanti italiane più importanti, come ad esempio Luce che le ha permesso di vincere tra l'altro il Festival di Sanremo, a quelli dell'ultimo album. Dunque come o forse sei tu arrivato secondo invece nell'ultima edizione del Festival. Per Elisa è stata la sua ennesima esibizione a Olbia dopo i capodanni dei primi anni 2000 e l'ultimo del 2020. A sorpresa inoltre durante il concerto Elisa ha notato dal pubblico una ragazza facendola salire sul palco, Sofia Murgia, giovane cantante di Budoni, che tra l'altro ha partecipato a Sanremo Giovani e Devois negli ultimi anni e hanno eseguito un duetto sulle note di eppure sentire. Ialghero e la Sardegna si preparano a trasformarsi nella terra dei titani e capitale assoluta del crossfit globale. È stato presentato questa mattina World War 4 Mori, l'evento internazionale che vedrà nella tre giorni del 2, 3 e 4 settembre ben 22 team elite, 35 team open e 6 più 6 team master young and classic, 4 team americani, 2 team inglesi, 3 team spagnoli, un team australiano, uno tedesco, maltese e francese. A parlare dell'evento stamane nella sala conferenze della Fondazione Alghero, naturalmente il sindaco Mario Conoci, il presidente della Fondazione Andrea De Logo, Stefano Visconti della Camera di Commercio di Sassari di Union Camere, il CEO della manifestazione Massimiliano Petrucci, e l'amministratore delegato di Insulevenze Gian Stefano Murru. La notizia che fa fibrillare l'universo crossfit, la conservatissima presenza d'Alguero del mitologico team Mayhem, del fuoriclasse assoluto Rich Froning, oltre a quella di fortissimi crossfitter svedesi, islandesi, finlandesi, greci e olandesi, oltre che di italiani di assoluto livello, dei migliori sardi sulla scena della disciplina. Sentiamo però le interviste che abbiamo realizzato questa mattina in occasione della conferenza stampa. Iniziamo proprio dal sindaco Mario Conoci. Sindaco Alghero, cornice di un altro grande evento sportivo internazionale. Sì, dopo una stagione che si è avviata con i grandi eventi sportivi, la Billie Jean King Cup, poi il rally, poi il nuoto con Paltrinieri, e poi oggi iniziamo la nuova stagione, dopo il periodo caldo dell'estate, quella piena, con un altro grande evento sportivo, un evento mondiale. Insomma, Alghero si presenta molto appetibile per questo tipo di manifestazioni, per questo tipo di eventi. Avremo anche, verso la fine di settembre, la Coppa Italia di basket femminile, insomma un altro evento che avvia la stagione sportiva della serie femminile di basket. Insomma, questo evento in particolare sicuramente rappresenta una novità per il tipo di attività sportiva, per il tipo di coinvolgimento che avrà. Un ringraziamento al rugby perché ha messo ancora una volta a disposizione il suo impianto. C'è un grande entusiasmo attorno a questo evento, insomma lo aspettiamo tutti con grande attesa, con grande trepidazione. Mi pare che ci sia dietro una grandissima organizzazione e mi pare che sia davvero un bel avvio per la seconda stagione, diciamo la seconda parte della stagione estiva di Alghero. Spazio ora invece all'organizzatore della manifestazione, Massimiliano Petrucci. Il grande crossfit, crossfit internazionale, in Sardegna e soprattutto ad Alghero. Intanto il perché di questa location? Abbiamo scelto Alghero perché secondo noi è probabilmente una delle location più belle in Sardegna, perché può valorizzare ampiamente il territorio e poi può mettere in risalto lo sport, in questo caso il crossfit, dove alcuni panorami di Alghero e alcune strutture di Alghero si prestano tantissimo a questa gara. Abbiamo scelto Alghero per quello. Come si svolgerà la manifestazione? La manifestazione si svolgerà il 2, il 3, il 4, dalle ore 9 alle ore 19 e ci saranno workout tutta la giornata, perciò non ci sarà solo un workout o due workout, ma sarà spettacolo continuo dalle 9 alle 19 per tutti i tre giorni. Quanti gli atleti iscritti? Allora, gli atleti iscritti sono 60 team, perciò ogni team è composto da due donne, da due uomini, perciò è presto fatto una marea di atleti. Ci saranno atleti internazionali che vengono dalle parti più disparate del mondo, abbiamo atleti sudamericani, abbiamo del nord Europa e soprattutto finalmente in Europa tre team americani, questo è un evento eccezionale, non si è mai verificato. Una gran bella manifestazione, potrà assistere il pubblico? Assolutamente sì, ci aspettiamo tante persone, perché comunque abbiamo avuto anche tante richieste, tante domande, ma viene veramente Rich Froni, perché tutti erano increduli su questa presenza, ebbene sì, Froni ci sarà e ci sarà col suo team migliore, con quello con cui ha vinto tutte le edizioni dei game. Chiudiamo il TG, anche la pagina sportiva con il baseball, perché prosegue l'avventura della Catalana, che insegue la promozione nei play-off per la Serie A. Sabato mattina sul diamante di casa di Via Emilia, la compagine algherese ha affrontato le prime due di quattro gare contro il Bolzano. La gara 1 è stata vinta dai Trentini per 3 a 2, una partita equilibrata, decisa dalla scarsa efficacia dell'attacco della Catalana, che non è stato in grado di convertire in punti, i 19 corridori arrivate in base. Nonostante la sconfitta da registrare, il buon rendimento del monte di lancio e della difesa. Ribaltamento invece in gara 2, vinta per 10 a 0, per manifesta superiorità al settimo inning, dominata dal lanciatore Giovanni D'Amico, che lanciando tutta la partita concede una sola valida. In gara 2 si è rivisto l'attacco della Catalana dei giorni migliori, capace di insegnare i punti necessari per la vittoria. Un esordio positivo dunque per la Catalana, che non ha deluso davanti a tanti sostenitori. La sfida tra le due squadre proseguirà ora in Trentino Alto Adige, nel primo weekend di settembre, quando gli algheresi restituiranno la visita al Bolzano nella trasferta più lunga e difficile della stagione, per la disputa delle altre gare in programma, che decreteranno la squadra ammessa la finalissima per la promozione in Serie A. E per oggi è davvero tutto, io come sempre vi lascio le previsioni del tempo per domani, grazie per essere stati con noi e arrivederci. Grazie a tutti.